Capitolo 5 Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, Katte espirò, e un gran temore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani alzatisi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa tre ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò, e Pietro, rivolgendosi a lei, Dimmi, le disse, avete venduto il podere pertanto? Ed ella rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito, sono alla porta, e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante, cadde ai suoi piedi, espirò. I giovani entrati la trovarono morta, e portata la via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran temore venne su tutta la chiesa, e su tutti quelli che udivano queste cose. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti, di comune accordo, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro, il popolo però li esaltava. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero, che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze, e li mettevano su lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla correva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Il sommo sacerdote, e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei sadducei, si alzarono, pieni di invidia, e misero le mani sopra gli apostoli, e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse Andate, presentatevi nel Tempio, e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel Tempio, e insegnavano. Ora, il sommo sacerdote, e quelli che erano con lui, vennero, convocarono il Sinedrio, e tutti gli anziani del popolo di Israele, e mandarono alla prigione, per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono, non li trovarono nella prigione, e, tornate, fecero il loro rapporto, dicendo, La prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza, e le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro. Quando il capitano del Tempio, e i capi dei sacerdoti, udirono queste cose, rimasero perplessi, sul conto loro, non sapendo cosa ciò potesse significare, ma sopraggiunse uno, che disse loro, Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio, e stanno insegnando al popolo. Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo, Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero, Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira, e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. Poi, disse loro, Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare circa questi uomini. Poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendo di essere qualcuno, presso di lui si raccolsero circa quattrocento uomini. Egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda e il Galileo ai giorni del censimento e si trascinò dietro della gente. Anch'egli perì, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico, tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio voi, non potrete distruggerli. Se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono. Ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.